Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare di quelli che non saranno più disponibili a partire dal 27 marzo. A grande richiesta popolare, anzi porolare, oggi vi indicherò quelli che secondo me sono i titoli 3DS che vale la pena recuperare prima della chiusura definitiva dell'eShop del 3DS. L'anno scorso ho già fatto un video simile dedicato al Wii U, che vi consiglio di recuperare immediatamente appena finite di vedere questo video, ma rispetto al primo episodio le cose sono molto più complicate, perché il 3DS è pieno di titoli usciti unicamente in digitale e muoversi all'interno di questa gigantesca lista non è affatto semplice. Quindi come al solito prendete questo video consigli come una discussione aperta. Vi aspetto nei commenti per sapere se secondo voi ci sono altri titoli che vale la pena recuperare. Come al solito vi leggo tutti quanti, poi se magari il video avrà un buon successo potremmo fare anche un secondo episodio per i recuperi a un passo dalla fine. Abbiamo comunque ancora tre settimane prima della chiusura definitiva degli eShop e quindi abbiamo tutto il tempo del mondo per diventare ancora più poracci. Prima di tutto però se siete nuovi vi invito a iscrivervi al canale per mettervi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate un sacco di links, tutti quanti da cliccare, mi raccomando fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! Nell'organizzare questo video ho usato come punto di riferimento principale un listone amatoriale messo in piedi da un utente sul Reddit. Vi lascio il link in descrizione ma intanto vi spiego come ho deciso di muovermi. Non dimenticandoci del fatto che potrebbe trattarsi di una lista non completa al 100%, ci troviamo comunque di fronte a oltre 500 giochi usciti esclusivamente in digitale che fra tre settimane non saranno più accessibili. I software sono divisi in due blocchi principali. Da una parte abbiamo i titoli pubblicati esclusivamente in digitale che magari non hanno ricevuto alcun tipo di riedizione successiva e dall'altra oltre 200 software inizialmente pubblicati sullo shop del DSi come DSiWare che sopravvivono esclusivamente su 3DS, almeno per ora. Nel mezzo poi vanno fatte un'infinità di distinzioni come per quanto riguarda i titoli su Virtual Console o le utility, gratuite o meno, che non sono giochi di per sé ma che rivestono comunque un ruolo fondamentale all'interno della libreria 3DS. Per ora tengo fuori dalla lista tutti quei giochi disponibili in edizione fisica che però sono diventati rari e quindi la controparte digitale è l'unico modo semplice per recuperarli. Magari per un'integrazione sui rari e introvabili, proprio come facevamo una volta, dedicheremo un video a parte, per ora ragionatela così. Se si tratta di un JRPG probabilmente vi conviene recuperarlo in digitale. E poi un'ultima precisazione, purtroppo non ho nessun tipo di device che mi permette di catturare direttamente il gameplay da 3DS e quindi anche solo rovistare l'eShop non è semplice da mostrare in video. Cercherò di trovare del footage dove possibile, altrimenti utilizzate carta e penna per appuntarvi nomi e anche tanta fantasia. Bene, io partirei dalla Virtual Console, ovvero dalla selezione di titoli classici che non sono stati rilasciati fisicamente. Possiamo sperare che piano piano l'NSO diventi un valido sostituto della Virtual Console 3DS Wii U. Ma tenete sempre a mente che sul portatile e sulla console col paddone state effettivamente acquistando i titoli, che rimarranno disponibili, non si sa per quanto, anche dopo la chiusura dello store. Mentre nessuno può garantirvi quanto durerà il Nintendo Switch Online e soprattutto se i titoli al suo interno rimarranno sempre disponibili all'interno della sua selezione. La Virtual Console 3DS al momento ha qualche vantaggio rispetto all'NSO. Tra i sistemi che propone c'è infatti il Game Gear, la prima portatile di Sega, con una selezione non gigantesca ma che comunque rimane comoda per riscoprire questa mitica console. Ci sono poi due importanti eccezioni. Del GBA su 3DS sono stati pubblicati solo 10 titoli, che però non sono mai stati messi in vendita. Sono stati infatti regalati soltanto a chi rientrava nel programma Ambassador, ovvero tutti quelli che avevano comprato il 3DS al lancio prima del repentino taglio al suo prezzo di listino. E poi ci sono i titoli Super Nintendo, 30 in totale, che però sono disponibili solo per i modelli new del 3DS e del 2DS. Se dovete puntare qualcosa, io vi suggerirei di dare uno sguardo al catalogo NES e segnarvi due titoli che su 3DS hanno visto il loro debutto all'infuori del Giappone. Il primo è The Mysterious Murasama Castle, uscito originariamente nell'86 sul Famicom Disk System. Questa è una sorta di rivisitazione in chiave action del primo storico The Legend of Zelda, sviluppato sempre da Nintendo. Il secondo è invece Summer Carnival 92, RECCA, un titolo uscito verso la fine del ciclo vitale del NES, quando l'attenzione del pubblico giapponese era già tutta rivolta al Super Famicom. Il gioco è considerato non solo uno dei padri dei moderni Balletel, ma inoltre spinge al limite l'hardware del Famicom ed è tra i titoli più ricercati in assoluto tra i collezionisti. Un discorso a parte va fatto invece per i classici in 3D, ovvero dei titoli presi dal catalogo dei nomi storici Nintendo e Sega che non hanno ricevuto un semplice porting via emulazione, ma che sono stati rifatti per sfruttare appieno le potenzialità del 3D stereoscopico. Questa selezione è molto streaminzita e lo sforzo messo nel creare questi remake varia di titolo in titolo. Le reimmaginazioni più notevoli sono sicuramente quella di Kid Icarus, che aggiunge degli sfondi ai livelli in sostituzione della tinta monocromatica nera, Exit Bike con tanto di visuale in 16 noni, e Urban Champions, che diventa un vero e proprio beat'em up a scorrimento in 2.5D. Discorso diverso va fatto per i classici Sega, che in Europa sono stati raccolti in una collection fisica di 9 titoli, che però offre solo una parte del catalogo. In Giappone sono usciti ben 3 pack fisici, ma il prezzo è a dir poco proibitivo, quindi se volete recuperarvi tutte le vecchie glorie Sega col supporto al 3D, dovete acquistarle qui in digitale. Il prezzo secondo me è però troppo alto. Ci sono poi i software DSiWare, che mantengono viva l'eredità dello shop DSi. Si tratta sì di giochi molto rudimentali, ma non per questo tra gli oltre 200 titoli non si nascondono dei giochi che meritano di essere acquistati. Ad esempio ho trovato sempre molto affascinante l'idea di creare una linea di versioni ridotte all'osso di titoli venduti altrimenti a prezzo pieno. Questa collana in Italia è chiamata Una pausa con puntini puntini puntini, e comprende titoli come Brain Training, Dottor Mario e Golf. Tra i giochi più corposi invece va segnalato Dragon Quest Wars, sviluppato da Intelligent System e pubblicato da Square Enix. Gli stessi sviluppatori di Fire Emblem hanno creato una versione da strategico a scacchiera di Dragon Quest, che non è mai stata rilasciata all'infuori del catalogo digitale del DSi. Se invece cercate qualcosa dal marcato valore storico, c'è 3D Space Tank, che è una sorta di seguito spirituale di X, il primo e quasi unico gioco tridimensionale uscito sul primo Game Boy. Lo sviluppatore di X fu poi una delle menti dietro a Star Fox, e anche in 3D Space Tank si può scorgere immediatamente tutta l'influenza della serie Nintendo. Se siete invece impallinati di Wario e volete assolutamente mettere le mani su ogni sua comparsata da protagonista esclusiva dei DSiWare, c'è WarioWare Snapped, forse è l'episodio meno ispirato di tutta quanta la saga. Il problema è che i minigiochi sono solo 20 e tutti fanno affidamento sulla telecamera frontale del DSi, dando vita a un gameplay frustrante quanto impreciso. Ci sono poi tanti esperimenti che meriterebbero di essere ricordati, come Pioro, il puzzle game originato da una costola di WarioWare, un porting completo del primo Rayman, Mario vs Donkey Kong, Mini Mario alla riscossa, se siete super appassionati di questa sottoserie e anche, sempre sviluppato da Nintendo, Aura Aura Climber, il perfetto esempio di mobile game, prima che giochi su smartphone diventassero una realtà gigantesca. Prima di passare ai giochi veri e propri, vi ricordo che anche le utility spariranno con la chiusura degli eShop, quindi scaricatele ora prima che sia troppo tardi. Magari in futuro potrebbero tornarvi utili. Per tutti i pokemaniaci ossessionati con la cattura e il trasferimento di mostriciattoli da una generazione all'altra, la chiusura degli eShop comporterà qualche problema. Infatti su 3DS è presente Banca Pokémon, un'applicazione che propone un servizio in abbonamento a circa 5 euro all'anno che consente di salvare e trasferire tutti i pokemon catturati sui giochi DS e 3DS anche su Pokémon Home. L'app diventerà gratuita una volta che l'eShop verrà chiuso, ma il consiglio è comunque quello di scaricarla prima e di pagare l'abbonamento per avere accesso anche alla utility presente all'interno dell'app che permette di trasferire i vari pokemon. Invece se per qualche motivo avete 15 euro da buttare, su 3DS è disponibile il Pokédex 3D Pro, un Pokédex contenente i modelli 3D di quasi tutti i pokemon presenti in nera 2 e bianca 2. C'è anche una brevissima modalità quiz che rende leggermente interattivo questo Pokédex, ma altrimenti si tratta di informazioni che potreste trovare ovunque e gratuitamente su internet. Intanto però i modelli 3D non hanno nulla da invidiare ai giochi più recenti. Pazzesco! Ad un prezzo molto contenuto c'è anche Radar Pokémon, che è un po' la versione 0.1 di Pokémon Go, dove tramite la realtà aumentata offerta dalla camera del 3DS si possono catturare dei Pokémon da trasferire su Pokémon versione bianca 2 e nera 2. E visto che ci siete, buttate pure un occhio sulla demo speciale di Sole e Luna, perché garantisce l'accesso a un Pokémon unico, Ash Green Ninja. Tornando alle utility gratuite con trasferimenti, dati di salvataggio, avrete un software che permette di spostare i propri salvataggi da una copia fisica alla sua controparte digitale e viceversa. Un processo che oggi è automatizzato su console come la Switch, ma che su 3DS non era affatto scontato. Si tratta di un'app molto utile se avete intenzione di passare totalmente al digitale per mettere a riposo le vostre cartucce. E poi ve ne ho parlato in uno shorts recente, ma anche il badge arcade conserva il suo fascino. Dal 27 marzo dovreste comunque essere in grado di continuare a fare le partite giornaliere gratis e anche le partite di prova che vi garantiranno dei bonus. Passiamo ora ai titoli esclusiva dell'eShop e qui ce n'è veramente per tutti i gusti. Mi avevamo già parlato nel video dedicato al Wii U, ma tra la mirilade di produzioni targate Intelligent System spicca la serie di Pool Blocks. Sulla console fissa col paddone abbiamo avuto unicamente Pool Blocks World, che in realtà è il terzo gioco della saga, ma su 3DS e eShop c'è molto di più. Non solo abbiamo infatti l'originale, ma anche il secondo capitolo, chiamato Full Blocks, seguito poi dal quarto capitolo della tetralogia, Full Blocks. A parte i nomi praticamente identici, si nota una certa progressione tra un titolo e l'altro, ed ogni nuovo capitolo aggiunge delle interessanti meccaniche di gameplay al concept base di questo puzzle game, dove bisogna sostanzialmente spostare delle costruzioni a blocchi per creare un percorso per arrivare in cima a ogni livello. E se cercate un motivo per dare una chance a questa serie, beh, ricordatevi che è riuscita a essere citata anche all'interno di Super Smash Bros., Super Mario Maker e anche in un minigioco di Wario War Gold. E a proposito di serie legate al mondo Nintendo, impossibile non citare Box Boy, un altro puzzle game, questa volta firmato non da Intelligent System, ma da Hull Laboratory. Su Switch abbiamo avuto recentemente il quarto capitolo della saga, ma i primi tre rimangono esclusiva del 3DS e in Europa sono disponibili solo in digitale. In Giappone c'è una versione fisica, ma il prezzo è a dir poco proibitivo. Qui, se vogliamo, presentazione e gameplay sono ancora più essenziali di Full Blocks, ma Box Boy è un altro esempio di come si può ottenere tanto anche partendo da delle semplici premesse, un altro recupero consigliatissimo per gli amanti dei puzzle game. E molto velocemente, visto che stiamo parlando di Hull, vi ricordo che sullo shop del 3DS trovate ben quattro titoli di Kirby che non hanno ricevuto alcuna release fisica. Si tratta di espansioni, di minigiochi visti su Tripol Deluxe e Planet Robobot, e per l'importanza storica, visto che può essere considerato il primo Kirby in 3D, fossi in voi darei un'occhiata a Kirby's Blowout Blast. Ve ne ho già parlato in qualche video. Continuiamo poi il tour degli studi protagonisti della galassia Nintendo con Game Freak. Ogni tanto, gli sviluppatori di Pokémon si allontanano dal brand che li ha resi celebri in tutto il mondo per imbarcarsi in degli esperimenti non sempre riuscitissimi. Su 3DS e in digitale abbiamo Pocket Card Jockey, un mix particolarissimo tra corse di cavalli e un gioco di carte. Recentemente il titolo è tornato all'attenzione del grande pubblico perché ne è uscito un seguito, per ora rimasto nei confini degli smartphone. Mentre ancora più oscuro forse è Harmonite, un rhythm game a scorrimento laterale stra-semplice ma dall'art style veramente gradevole. La vera chicca è che nei livelli bonus ci sono anche alcune tracce prese direttamente da Pokémon. Ma Pokémon non è solo Game Freak. Non dimentichiamoci di Genius Sonority, uno studio che oggi è relegato a spin-off minori come Cafe Mix, ma che nei suoi anni d'oro mise la firma su alcuni capolapori del brand come Colosseum e Tempesta Oscura. Ma durante la vita del 3DS il team si occupò di una serie sconosciuta, quella di Dempaman, composta da ben tre capitoli, almeno qui in occidente. Dempaman è un po' la versione low budget di Pokémon, un titolo che ancora una volta sfrutta la telecamera del 3DS per proporre un JRPG con innesti in realtà aumentata e se vogliamo è anche questo una sorta di precursore di Pokémon GO. Anche se l'art style poi a me ricorda Katamari Damacy e così a pelle, questo non l'ho mai provato, ci rivedo tantissimo di Miitopia. Insomma, un JRPG Lite che forse meriterebbe un po' più di attenzione da parte del grande pubblico. Vampool è invece un nome sconosciuto e più, nonostante si tratti di uno studio che ha preso parte a importantissime produzioni durante la storia di Nintendo. Fondato da due ex dipendenti di Love the Leak, altro studio importantissimo nel panorama degli sviluppatori nipponici, Vampool ha dato vita alla trilogia Dillon, il ranger armadillo intento a combattere contro i Groks. Qui abbiamo una sorta di tower defense con degli innesti action palesemente ispirati a Majora's Mask e alla trasformazione in Goron. I titoli in totale sono tre, ma il terzo ha ricevuto una release fisica in Giappone e in Europa, quindi date priorità ai primi due capitoli. Allontaniamoci ora un attimo dagli studi associati direttamente a Nintendo, rimanendo però nella storia delle sue console portatili. Se su DS avete amato capolavori del calibro di Another Code e Hotel Dusk, sappiate che l'eredità di Qing sopravvive in digitale su 3DS, almeno fino alla fine del mese, grazie a Chase, Call Case Investigations. Il titolo è stato sviluppato da Arc System Works, ma la squadra che ci ha lavorato sopra era composta prevalentemente da ex dipendenti Qing e si vede parecchio. Chase è sostanzialmente una versione 2.0 delle investigazioni viste in Hotel Dusk e Last Window. Io poi adoro Shinen, studio tedesco che ha prodotto alcuni tra i titoli indie più interessanti degli ultimi anni, tra cui FasterMX e The Tourist. Beh, il collettivo su 3DS si è dato da fare e sono molti i titoli presenti sullo store della console stereoscopica riconducibili a Shinen. Il più impressionante probabilmente è lo shooter Nano Assault X. Nano Assault fu pubblicato inizialmente su DS ed era una sorta di successore spirituale di Nano Stray e questa versione X, disponibile esclusivamente in digitale su eShop 3DS, ne migliora di netto la grafica e aggiunge anche qualche feature di gameplay. Insomma, uno shoot'em up estremamente interessante. E poi non so se ormai è un problema mio che vedo Mario Galaxy ovunque, ma il level design di questo shoot'em up secondo me è ispirato dal capolavoro Wii. Poi, a proposito di remaster provenienti direttamente dal DS, gli amanti dei survival horror non dovrebbero lasciarsi sfuggire Dementium Remastered. L'originale era un vero e proprio miracolo tecnico su DS e questa versione migliorata ne aggiornava la presentazione sfruttando la potenza hardware del 3DS e aggiungendo anche un sistema di checkpoint che di sicuro non fa male. Vista la chiusura di Renegade Kid, lo studio che si occupò della serie, difficilmente sentiremo parlare nuovamente di Dementium. E questa è l'ultima occasione per recuperare la versione migliore del primo episodio. Ci avviciniamo ora alla conclusione con quella che forse è una delle compilation più pazzesche di sempre. E dato che in questi giorni si parla tanto del ritorno di level 5 in occidente, non dimentichiamoci che lo studio ha pubblicato le due raccolte Guild 0.1 e 0.2 che solo in Giappone hanno ricevuto una release fisica. Qui in occidente i 7 titoli, 4 nel primo volume e 3 nel secondo, sono tutti acquistabili singolarmente ed è un bene perché in realtà la raccolta non aveva alcun tipo di fil rouge che univa le produzioni. Semplicemente level 5 ha dato carta bianca ad alcuni nomi noti tra gli sviluppatori giapponesi e i risultati spaziano enormemente. Prendete ad esempio il titolo di apertura di Guild 0.1, Liberation Maiden, uno shooter completamente fuori di testa creato da Goichi Suda e da Grasshopper. La collection continua poi con il gestionale Aeroporter creato da Yutsu Saito, il papà di Seamen e si conclude infine con due grpg molto differenti tra di loro. Il primo, Crimson Shroud, è un gioco di ruolo stra-classico creato da un vero gigante del genere, Yasumi Matsuno, un genio che durante i suoi anni in Square Enix ha messo la firma su alcuni dei migliori tattici mai pubblicati come potete vedere dalla lista a schermo. Crimson Shroud graficamente ricorda lo stile visto in Final Fantasy Tactics e anche in Vagran Story, ma il gameplay è una diretta trasposizione dell'esperienza dei GDR da tavolo come Dungeons & Dragons. Weapon Shop Domas è invece un rhythm game dai toni comici e parodistici, totalmente lontano dal sobrio classicismo di Crimson Shroud. Di Guild 0.2 vi consiglio invece di provare Attack of the Friday Monsters, di sicuro il più accessibile e intrigante del trio. Un'avventura grafica, prettamente narrativa, dove è stato inserito un po' a forza un battle system basato su di un card game, che però trova la sua forza in un art style che ricorda da vicino le produzioni dello studio Ghibli. Vi ripeto, le varie parti di Guild non sono delle grandi produzioni, ma più che altro sono esperimenti che pongono la libertà creativa prima di tutto, un fattore che rende estremamente affascinante il progetto. Fossi in voi, ci butterei un occhio. Oracci, io mi devo fermare qui, ma nonostante il video lunghissimo, sento di aver grattato solamente la superficie di quello che è un eShop sconfinato. Ad esempio, ma vogliamo parlare del DLC di New Super Mario Bros 2? O di Shin Megami Tensei 4, che da noi in Europa è uscito soltanto in digitale, mentre il suo seguito, Apocalypse, è sì, uscito in versione fisica, nel vecchio continente, recuperarlo costa un occhio della testa. Insomma, ci sono tantissime cose di cui parlare, ma il tempo è finito. Proprio per questo vi aspetto nei commenti per sapere quali sono i vostri suggerimenti, se ci sono altri nomi che secondo voi vale la pena recuperare assolutamente prima della chiusura dell'eShop e soprattutto fatemi sapere se vorreste vedere un secondo o un terzo episodio dei migliori giochi per 3DS prima che l'eShop ci saluti definitivamente. Io comunque vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Intanto fatevi bastare questo, che è veramente gigantesco. Noi ci vediamo presto, voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi e riposatevi dormendo sogni tranquilli ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 3DS, io sono il Poro 3DS, Michele eShop, ciao! Ehi 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 fermo, se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Pronti? Partenzavi! Già non ho voce.